Continua a fumare pericolosamente la cosiddetta Cava dei Veleni a Trani. La discarica illegale incontrata a Monachelle sarà oggetto di un intervento per la messa in sicurezza nei prossimi giorni con una operazione che metterà insieme Comune, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Procura della Repubblica. Ne ha parlato Michele Di Gregorio, Assessore all'Ambiente del Comune di Trani. La Cava incontrata a Monachelle, mi piace parlare in termini più tecnici. La Cava incontrata a Monachelle, sono in corso le attività di monitoraggio e di preparazione per la bonifica. Abbiamo incontrato proprio l'altro ieri, se non ricordo male, abbiamo fatto un tavolo tecnico su al Comune con ARPA, ASL, Convocati Vigili del Fuoco, Convocati Carabinieri. Si è accertato i tecnici e la proprietà soprattutto, la proprietà che si sta mettendo a disposizione con tecnici molto qualificati, questo non mi preme sottolinearlo, ci troviamo di fronte non a un interlocutore affidabile che si è reso disponibile a porre rimedio a questa grave emergenza causata da dei delinquenti, le stofanti che hanno causato questo grande problema alla nostra città. È un sito di proprietà privata. Abbiamo fatto questo tavolo, il problema è quello delle attività di bonifica. Accertati che si tratta di idrogarburi, quindi di sostanze, quindi di oli minerali, che sono stati sversati, non sappiamo in quale quantità. La cosa adesso che hanno sottolineato i tecnici è per questo abbiamo ritenuto necessaria la presenza dei Vigili del Fuoco nell'ambito di questo tavolo tecnico, come svolgere l'attività di bonifica, perché un intervento sbagliato potrebbe causare tantissimo danno. Lunedì mattina vi do questa notizia, insieme al Sindaco effettueremo un sopraluogo tecnico con i Vigili del Fuoco, sempre con ASD, con ARPA, sotto, come dire, sorveglianza della Procura della Repubblica, per cui con l'intervento dei Vigili del Fuoco, proprio alla luce del fatto di questa particolarità tecnica, nel senso che capito che cosa c'è sotto, capire come intervenire, come dire, i Vigili del Fuoco, insieme ai tecnici della proprietà, coordineranno l'intervento di bonifica. Quindi si sta già programmando l'intervento di bonifica del sito.